La tendopoli di San Ferdinando, trasformata in un ghetto, sarà smantellata. Al suo posto sorgerà una nuova struttura di accoglienza per i lavoratori stagionali e l'esito di un incontro in prefettura ha volto a migliorare le condizioni di vivibilità degli immigrati nella piana di Gioia Tauro. Nel corso della riunione presieduta dal prefetto Claudio San Martino è stata definita una serie di interventi volti alla realizzazione del nuovo sito che sarà assegnato a un'associazione composta dalle stesse organizzazioni che operano nella tendopoli e alla quale aderiranno anche i migranti. Dal punto di vista logistico si prevede che ogni sei tende una sia destinata a zona di aggregazione. Nella tenda sociale sarà realizzata anche una cucina comune. Per la realizzazione degli interventi di accoglienza e assistenza a favore degli immigrati il Ministero dell'Interno ha già assegnato al Comune di San Ferdinando un contributo di 450 mila euro. La strategia avviata dalla prefettura a tutela dei diritti dei lavoratori immigrati comprende anche una continuazione di contrasto al caporalato. Dal mese di novembre ad oggi sono 718 le aziende controllate, elevate 139 sanzioni amministrative per un valore complessivo di 897 mila 627 euro. Prezioso strumento in tal senso è costituito dal protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Sottoscritto lo scorso 27 maggio dai ministri dell'interno delle politiche agricole, alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali. Il protocollo ha come obiettivo principale quello di rafforzare gli interventi a tutela dei lavoratori stranieri stagionali reprimendo una volta per tutte i fenomeni di illegalità. Da Reggio Calabria per l'AC News 24.